Grazie a tutti. La regia di Salvatore Bullotti e la grafica di Maurizio Guaresi ma le riprese assicurate dall'esterno 1 di Napoli e dal Mvm di Mariano Sgambati e qui dalla piscina del Palagalli con Francesco Postiglione e Dario Di Gennaro il trionfo della Proreco che ha battuto per 9-5 Imperia e ha vinto il titolo italiano. Nuove campionesi d'Italia sono le ragazze della GMG Proreco. Da parte nostra l'augurio di una buona serata con Rai Sport.